Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno siamo in diretta da Sanremo con il grandissimo Gianni Morandi Ciao Gianni! Buongiorno, che bello svegliarsi a Sanremo con un festival così bello, con questo grande risultato tutti esaltati stamattina, tutti contenti, nessuno ce l'aspettava, bello, bello, sono contento E ti abbiamo visto sul palco davvero molto emozionato Beh, ritrovarmi con Claudio, sai, abbiamo passato due anni praticamente insieme fra il disco, il tour, i vari incontri quindi ritrovarsi dopo un anno e mezzo, due, insomma, è stato bello poi noi siamo amici da una vita con Claudio Poi ieri sera c'era un altro emozionato, Tommaso Paradiso Beh, voi dovete vedere lì che, insomma, salire per la prima volta sul palco di Sanremo io ci sono passato tante volte, ma per lui era la prima volta quindi anche lui aveva la sua emozione, però ha cantato bene, è stato bello Che consigli le hai dato a Tommaso? Ma che consigli? Lasciati andare, canta la canzone, pensa alla canzone Sai, quelle cose che si dicono che poi invece uno trema perché pensa tante cose, no? Milioni di persone che ti guardano, oddio Però dai, è andato tutto molto bene Gianni, senti, tu il festival l'hai presentato Hai dato qualche consiglio prima dell'inizio, proprio di questa settimana, Claudio? No, beh, non credo che avesse bisogno di consigli Secondo me lui, gli ho detto solo che è fortissimo quando rimane ironico Quando continua, c'è quella sua ironia sottile, le battutine Ecco, lì è molto forte Poi naturalmente lui è un grande perfezionista È uno che avrà curato tutti i dettagli della scenografia Dei musicisti, degli arrangiamenti, delle luci Insomma, ha creato proprio questa cosa a sua immagine e somiglianza Tra l'altro ha cambiato anche il regolamento, ha tolto l'eliminazione Favorendo così la partecipazione di diversi nomi che non si vedevano da anni Sì, anche questo Pensavamo, sai, senza le eliminazioni Chissà, la gente, perché la gente vuole sempre vedere un po' il sangue, no? Poi le chiave, ah, perché hanno fatto fuori quello Invece ha dimostrato che mettendo la musica al centro La gente è comunque appassionata E vuole vedere Sanremo, vuole sentire le canzoni Ha fatto, è partito la grande Insomma, adesso per sentire bene le canzoni, per impararle Bisogna far passare qualche giorno Perché il primo giorno c'è un po' di confusione, no? Alessi, volevi dire qualcosa? Hai già qualche brano preferito, insomma qualcosa Che ti ha colpito particolarmente? Mi è capitato proprio di vedere lo stato sociale E mi sono divertito da morire Poi sono dei ragazzi della nostra zona, di Bologna, delle Miglie E ho chiesto subito di fare un selfie con quella ballerina fantastica Ha colpito tutti È sparita Non l'ho più vista Ma volevo fare una foto con lei Sai che io sono un po' Sono fissato con Facebook Ma c'era Anna a farti le foto però? No, non c'era Ma io avrei fatto una foto così Un selfie Un selfie Poi alla fine ho incontrato Michelle Ho fatto un selfie con lei Va bene ragazze Gianni è stato un anno straordinario Sei stato attore di una fiction che ha spopolato Adesso sei in tour Insomma non ti fermi mai Partiamo Si sono concentrati tutti questi appuntamenti in questo periodo Partirò da Rimini praticamente il 24 Con una data prova Una data zero a Jesolo E canterò le mie canzoni Naturalmente anche con l'album nuovo Insomma E si va avanti Ci vogliamo salutare con il tuo Motto Sanremese Il mio Motto Sanremese Allora guarda Dai come si fa Vediamo in questa telecamera Tutti dai Stiamo uniti Ripetiamo Stiamo uniti Grazie a Gianni Morandi Ciao Radio Bruno Ciao Radio Bruno Ciao Radio Bruno Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renault Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca